E con grande gioia che saluto oggi Sua Santità Tavuadros II, Papa dell'Alessandria e Patriarca della Sede di San Marco, e l'illustre delegazione che lo accompagna. Sua Santità Tavuadros ha accettato il mio invito a venire a Roma per celebrare con me il cinquantesimo anniversario dello storico incontro di Papa San Paolo VI e Papa Ceaulda III nel 1973. Ci trattava del primo incontro tra un Vescovo di Roma e un Patriarca della Chiesa Copta Ottodossa, che culminò con la firma di una memorabile dichiarazione cristologica comune, esattamente il Dio di Maggio. In memoria di questo evento, Sua Santità Tavuadros è venuto a trovarmi per la prima volta il 10 maggio di dieci anni fa, pochi mesi dopo la sua e la mia elezione, e ha proposto di celebrare ogni 10 maggio la giornata dell'amicizia copto-cattolica, che da quel tempo celebramo ogni anno. Ci chiamiamo al telefono, ci diamo saluti e rimaniamo buoni fratelli. Non abbiamo litigato.